Alcuni frammenti ossei umani. Così la sala stampa vaticana indica i resti rinvenuti durante lavori di ristrutturazione in un locale annesso all'annunziatura apostolica in Italia, in via Po a Roma. La gendarmeria ha subito avvisato le autorità italiane. La polizia scientifica della questura di Roma è ora impegnata a stabilire l'età, il sesso e la datazione della morte. Un ritrovamento che ha richiamato l'attenzione dei legali della famiglia di Emanuele Orlandi. La quindicenne cittadina vaticana scomparse il 22 giugno 1983. Si procederà quindi a un confronto del DNA ricavabile dalle ossa scoperte in unziatura con quello dei familiari di Emanuela, come pure di quelli di Mirella Gregori, altra adolescente sparita a Roma un mese e mezzo prima della Orlandi. Fonti vaticane fanno notare che, quantomeno prematuro, senza conoscere ancora l'esito delle analisi, ipotizzare che appartengono a Emanuela Orlandi i resti rinvenuti a Villa Giorgina. Costruita nel 1920 di ispirazione neoclassica porta il nome dell'unica figlia, morta prematuramente, del primo proprietario di questa magnifica struttura, Abramo Giacobbe Isaia Levi, industriale torinese trapiantato nella capitale, di origine ebraica. Fu senatore del Regno d'Italia, iscritto al partito fascista. Salvato dal regime, dalla discriminazione razziale e poi rifugiatosi in Vaticano durante l'occupazione nazista, come ringraziamento a Pia XII per la sua protezione, lasciò la Santa Sede quanto aveva di più caro, Villa Giorgina appunto, con l'invito a farne sede dell'Annunziatura Vaticana in Italia, cosa che avvenne nel 1959 per volontà di Giovanni XXIII.